Una lezione speciale di educazione civica nel salone di rappresentanza del Palazzo Municipale di Tempio. A salire in cattedra il sindaco Gianni Andis. Questa mattina 30 tra studenti e studentesse del liceo dettori della città di Pietra si sono ritrovati in comune per sentire dalla viva voce di chi amministra la città come funzionano gli enti locali. Il primo cittadino con la sua giunta quasi al completo ha tenuto una lezione sul comune e l'amministrazione, un modo diretto di far conoscere e apprendere agli studenti ciò che prima hanno studiato sui libri. Accompagnati dalla docente Maddalena Vasa, gli studenti hanno posto tante domande al sindaco e agli assessori, due ore per una lezione speciale che sicuramente non dimenticheranno. In questo momento, ha spiegato la docente, stiamo studiando in classe la Costituzione e gli organi dello Stato, tra cui il comune. Ho pensato che oltre a spiegare l'argomento fosse utile mostrare loro dal vivo questa istituzione per facilitare l'interazione dei giovani con quelle strutture che spesso appaiono distanti e irraggiungibili, ma attraverso le quali si gestisce la vita di comunità. L'iniziativa rientra nell'ambito di un progetto di educazione civica che domani li porterà anche a Cagliari, nella sede del Consiglio regionale.